Rieccomi con la mia rubrica! Ecco le notizie dal mondo! Il rapporto cane-uomo è antichissimo. Da uno studio pubblicato sulla rivista Science, è emerso che durante l'ultima glaciazione erano presenti nel mondo almeno 5 diverse tipologie di cani. Indonesia, scoperto traffico illegale di pappagalli. Dozzine di pappagalli della specie protetta lori capinero sono stati trovati su una nave attraccata in Indonesia. Erano nascosti all'interno di bottiglie di plastica. Da trappola ad arte. In Uganda, alcuni abitanti dei villaggi vicino al Parco Nazionale delle Cascate Marchison hanno trasformato le trappole per animali selvatici in affascinanti sculture. È tutto, a te Lucky! E adesso tocca a voi con i vostri video! Ma che dolci questi micetti che si danno tanti bacini! In questo periodo così brutto, l'amore è tutto quello che serve! Max, ma con cosa stai giocando? Lo voglio anch'io! Mi sembra divertentissimo! Napoleone, ma cosa hai visto? Sei un fulmine! Ora è il momento di conoscere un'associazione amica degli animali! Se anche voi volete mandarci i vostri video, scrivetemi a lucky-dallapartedeglianimali.it Non dimenticate di seguire le pagine di Dallaparte degli animali sui social Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e poi ascoltate la nostra radio ufficiale R101 Cedo la parola a Michela Ciao!